Se io sono Presidente di Regione lo sono perché 2 milioni e 600 mila Lombardi mi hanno riconfermato Presidente di Regione. Il candidato che veniva dopo di me ha preso più o meno la metà dei miei voti, quindi la validità della mia elezione è dovuta al popolo sovrano che ha scelto Formigoni preferendola a qualunque altra soluzione, quindi la mia elezione e l'elezione dei miei collaboratori è certa, sicura e non revocabile in dubbio.